A Cremona fa discutere lo stato di degrado in cui versano molti camminamenti del centro storico. I cittadini segnalano una serie di criticità su via dei Divizioli dietro a Palazzo Trecchi, dove il cemento dei marciapiedi è a dir poco malconcio e sconnesso, all'angolo tra via Virgilio e Piazza Vida, in cui la segnaletica verticale giace a terra da svariati giorni, e il ciottolato di alcune vie minori ricco di buche e crepe. Il presidente del Comitato di Quartiere Centro segnala da tempo queste problematiche e chiede a gran voce degli interventi di manutenzione all'amministrazione. È una questione di sicurezza, cioè una persona anziana cade, si fa male, non è che ci fermiamo in quel momento lì, dopo abbiamo tutte le conseguenze. E purtroppo alcune vie della nostra città, del nostro centro storico, sono in queste condizioni. Sollecitiamo appunto quindi un intervento da parte dell'amministrazione per vedere un attimo se hanno la possibilità di rimettere a posto questo marciapiede e tanti altri marciapiedi. Certe volte basta anche fare un giro in alcune vie che non sono tanto frequentate, vedere lo stato di questi marciapiedi o anche delle strade, del ciottolato in particolare. Abbiamo una strada via Aselli in una condizione ormai veramente disastrata, ormai è una gobba d'asino. Il ciottolato ha ceduto, direbbe chiaramente intervenire in maniera... Via Aselli tanti residenti mi hanno chiesto di quando prima o poi si possa mettere a posto proprio la pavimentazione. Ultimamente in Piazza Vida abbiamo un cartello di segnaletica piantato per terra, anche lì quello di notte ci si può prendere dentro o ci si fa del male. Sollecitiamo appunto questi interventi di rimettere a posto quello che sia il ciottolato che la segnaletica. È come le strade, piene di buche e anche i marciapiedi, è tutto un insieme di cose che va fatta. È tutto uno schifo, cioè veramente pietosa sia i marciapiedi che comunque le strade. Si vorrebbe solo manutenzione che vediamo che è inesistente.